Il pubblico ministero Marco Peraro ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto di Ferruccio Bosello, 84 anni, il pensionato che sabato all'alba ha ucciso soffocandola la moglie Natalina Milani, di 81 anni, da tempo gravemente malata di Alzheimer nella loro casa di Cadoneghe. Verrà affidato anche l'incarico al medico legale che effettuerà l'autopsia sulla Salma, ancora sotto sequestro all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Bosello resta piantonato in ospedale e non ha potuto avere colloqui coi figli. Le sue condizioni sono migliorate. L'uomo, dopo aver ucciso la moglie, si era inferto diverse coltellate all'addome e al torace con due coltelli, un gesto che i familiari mai avrebbero ipotizzato riuscisse a compiere. Bosello non aveva condiviso con nessuno la sofferenza nel vedere la moglie, con cui era sposato da più di 50 anni, allettata e in gravi condizioni di salute.